Sì sì, qua non mollano l'osso manco a morire ragazzi, nessuno dei due che molla la preda vanno avanti tutti e due per la propria strada ragazzi, noi aspettiamo quello che succede e succede, aspettiamo che le cose nel frattempo ne migliorino perché qua tra tutte e due io vado di là, tu vai di là e quell'altro va dall'altra parte, chi ci rimette poi qua è il Milan, perciò tutto questo gran bene per la società io non lo vedo da nessuna delle due parti, però vediamo, noi aspettiamo, tanto il tempo ci dirà, ci dirà tutte le risposte che vogliamo sapere, belli siete ragazzi, buonasera, buon pomeriggio, buon tardi pomeriggio a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Naic nella casa del pane e balun ve lo giuro, ve lo giuro, da lunedì mi metto a dieta, è che qua tra feste, compleanni, cose ragazzi, sto mangiando come un porcello, perciò da lunedì mi chiamo fuori, basta, basta perché sennò qua si inizia troppo a esagerare, vabbè detto questo ragazzi, giornata di vigilia, domani riprende la serie A, undicesima di campionato, dobbiamo fare i pronostici, correggere quelli di, dell'altro giorno, non di settimana scorsa, di due giorni fa, correggere quelli della decima giornata e fare quelli nuovi, perciò ragazzi dedichiamoci questi dieci minuti insieme di compagnia, prima di cominciare come al solito vi invito ad iscrivervi al canale gratuito, non costa nulla, iscrizione e attivazione della campanella così non vi perdete mai nessun mio contenuto, mettete un bel like al video ragazzi, mi raccomando è molto importante, non vi costa nulla e soprattutto aspetto i vostri pronostici, dai 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 scrivetemi i vostri pronostici, metteteci anche voi la faccia, sfidiamoci dai vediamo chi, chi ne imbrocca a mezzo perché qua è dura, è difficile, è un campionato un po' particolare. Se vi va ragazzi seguitemi su TikTok, su Instagram, soprattutto ragazzi su TikTok, nella descrizione di questo video c'è il link, venitemi a trovare che faccio delle cose simpatiche e carine che durano anche meno e niente ragazzi partiamo, dai 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 su su iniziamo, volevo precisare una cosa perché ho iniziato dicendo, stavo parlando appunto di Leao perché domani giocherà il Milan, Monza-Milan, un'altra partita abbastanza delicata perché giocare oggi contro il Monza che ha una serie di problemi, insomma poi noi noi del Milan siamo i più bravi a far rinascere, risorgere chi sta peggio di noi, perciò noi siamo i migliori da quel punto di vista e chi se non il Monza ha proprio bisogno di affrontare Milan in questo momento e perciò domani con Monza-Milan altra panchina di Leao, terza consecutiva perciò tutti quanti dicono eh ma vogliamo parlare delle 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 palle delle contro coglioni che c'ha scusate i termini Fonseca perché sì va bene cioè io si può mediare un pochettino insomma non è che stia portando grandi stiano portando grandi risultati eh non mi sembra perciò insomma Leao è un patrimonio del Milan magari e magari cercare di mediare cercare non lo so qua nessuno dei due fa retromarcia e mi sembra che la cosa è diventata abbastanza eh abbastanza complicata e interessante boh vediamo vediamo come andrà a finire però insomma sono abbastanza preoccupato devo essere sincero vabbè detto questo dai facciamo i pronostici eh dell'undicesima giornata allora prima correggiamo quelli della decima che occhiali vabbè sì decima giornata Lecce-Verona avevamo detto gol 1-0 per il Lecce non presa Cagliari-Bologna gol 0-2 eh per il Bologna non preso Milan-Napoli gol 0-2 per il Napoli non presa abbiamo iniziato bene settimana scolta Venezia-Udinese over 2-5 3-2 preso Empoli-Inter 2 con gol eh 0-3 non preso no no perché ho messo preso non preso perché non è eh sì eh ragazzi fammi correggere qua non preso 0-2 io avevo messo 2 con gol invece 0-3 non preso eh eh Atalanta-Monza 1 fisso 2-0 preso Juventus-Parma over 2-5 2-2 preso Genova-Fiorentina gol 0-1 non preso Roma-Torino over 2-5 1-0 non preso e Como-Lazio gol 1-5 preso perciò 1-2-3-4-5-6 non presi e quattro insomma male 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 ragazzi però noi siamo siamo dei martelli perciò noi andiamo avanti per la nostra strada non ci non ci arrendiamo e continuiamo la nostra ecco fatemi fare sto lavoro qua ok continuiamo a fare i nostri pernosi primo poi li imbroccheremo l'unplane eh dai allora partiamo Bologna-Lecce domani allora Bologna-Lecce io dico io dico over 2-5 secondo me secondo me poi Lecce fuori casa non sta facendo benissimo anche se poi arriva da una vittoria però non sta facendo benissimo il Bologna ha vinto ha bisogno di dare continuità alle sue vittorie perché abbastanza in basso in classifica secondo me sarà una partita da eh bella spettacolare ricca di gol dico over 2-5 Udinese-Juventus la miglior difesa del campionato fino a due giornate fa adesso è iniziata a fare un po' di acqua a destra e a sinistra e l'Udinese l'Udinese non non mi ispira fiducia però insomma gioca sempre in casa poi se non sbaglio l'Udinese è una sorta di di bestia nera no per la Juve non è che la Juve faccia molto bene con l'Udinese ogni volta che la incontro io dico che è una partita da gol secondo me entrambe segneranno magari un 1-1 boh non lo so però dico che sarà una partita da gol Monza-Milan eccola qua ragazzi adesso al netto di tutto quello che sta succedendo perché sono preoccupato però sta di fatto che io non posso non posso non mettere non mettere due con over 2-5 secondo me il Milan è una squadra che subisce tanti gol e che comunque crea perciò l'over 2-5 ci sta però voglio rischiare anche la fissa del 2 secondo me il Milan poi alla fine riuscirà a svangarla magari con un gol di Leao entrato nel secondo tempo visto che partirà dalla panchina non lo so però dico 2 con over 2-5 voglio rischiarla anche perché almeno mettiamo un po' di pepe a questi a questi pronostici perciò 2 con over 2-5 adesso Napoli-Atalanta è Napoli-Atalanta ragazzi vi sorprenderò però Napoli-Atalanta è la fissa di questa settimana sì 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 siccome sono tutti quanti acquattati dietro l'angolo col Napoli ma adesso vediamo hanno solo incontrato quelle piccole quelle piccole adesso devono arrivare quelle grandi una già l'ha fatta diventare piccola cioè una grande già l'ha fatta diventare piccola io dico che il Napoli in casa con l'Atalanta farà una prestazione veramente da incorniciare dico uno fisso ragazzi io sono convinto che il Napoli vincerà adesso però non dovete fare così amici napoletani levatevi le mani da lì e già avete iniziato a toccarvi a prendervi i corni io porto fortuna perciò levatevi la mano da lì dico Napoli-Atalanta uno fisso uno fisso perché secondo me è fuga ragazzi e se dovesse vincere veramente è una grande impresa nonostante l'Atalanta stia andando bene quant'altro però insomma Napoli mi sembra bello sul pezzo vedremo uno fisso Torino-Fiorentina qua dico gol ragazzi Torino-Fiorentina dico gol il Torino il Torino secondo me è vero che ha cercato di aggiustare un po' la difesa nell'ultima partita ha perso solo 1-0 però secondo me incontra una squadra che veramente crea bene bene e tanto e riesce anche a fare gol era un po' quello che gli mancava l'anno scorso alla Fiorentina creava faceva un po' tutto bene poi quando arrivava lì nel momento di quagliare l'attaccante così faceva fatica invece quest'anno da quel punto di vista è migliorata tanto perciò i gol li fa anche il Torino è una squadra che quest'anno a differenza di altri anni li fa secondo me è una partita da gol entrambe segneranno poi non riesco a dare un vincitore uno sull'altro però secondo me faranno gol tutti e due. Verona-Roma Verona-Roma io dico ragazzi Verona-Roma è una partita da no gol secondo me Juric ha sistemato la difesa secondo me le partite della Roma da adesso in poi saranno molto brutte però cercherà di portare a casa un po' più di sostanza nel senso che cercherà sicuramente ha sistemato la difesa cercherà di non subire e di magari strappare il punticino o al massimo la vittoria di Cortomuso insomma la Roma quest'anno da adesso in poi sarà una sorta di Torino degli anni passati perciò dico no gol secondo me Verona-Roma finisce con può essere uno 0-0, uno 0-1 striminzito ma dico no gol Inter-Venezia è Inter-Venezia ragazzi tutto il bene di Francesco, tutto il bene del Venezia che comunque diverte, fa divertire sicuramente farà divertire anche i cuginastri malefici che sicuramente vinceranno dico uno con Over 2,5 e vinceranno anche tanto io vedo in questa partita anche una tripletta di Lautaro Martini è una roba del genere, non lo so secondo me finirà veramente tanto a poco uno con Over 2,5 Inter-Venezia Parma-Genoa anche questa vedo una partita bella mi è piaciuto il Parma contro la Juventus il Parma gioca veramente bene mi era piaciuto anche contro il Milan neanche in altre partite poi dopo ha faticato un po' troppo però è una squadra che gioca bene è messa bene in campo ha delle belle idee poi a volte magari vuole strafare troppo però è bello vederlo giocare il Parma il Genoa ha bisogno di punti vedremo se giocherà Balotelli o se l'hanno preso solo per aspettarlo per aspettare gennaio per farlo giocare non lo so che condizioni è Balotelli però insomma secondo me sarà una partita aperta di cover 2,5 secondo me bella ricca di gol lo spero più che altro Empoli-Komo gol ragazzi Empoli ha bisogno di riprendersi di fare una vittoria perché insomma arriva da un bel 3-0 secco era partito bene un po' così il Como è una squadra che comunque il suo gollettino lo fa sempre che comunque diverte secondo me tutte e due segneranno sarà una partita piacevole piacevole da vedere con tutti e due che faranno gol e poi arriviamo a Lazio-Cagliari Lazio-Cagliari vorrei mettere un 1-1 fisso però secondo me io ho capito una cosa della Lazio la Lazio quando gioca con le squadre piccole, medio-piccole non me ne vogliano gli amici cagliaritani insomma con tutto rispetto al Cagliari però comunque con le squadre che dalla mezza classifica in giù la Lazio fa male la Lazio gli fa male e poi fa tanti gol io prevedo una partita da over 2,5 tendenziosa più verso la Lazio però sicuramente è una partita molto ricca di gol oramai il campionato di adesso e gli ultimi campionati italiani sono veramente si fa tanti gol però la Lazio è una bella squadra soprattutto quando gioca con le piccole crea tanto perciò sarà una bella partita dico over 2,5 perciò ragazzi che volete che vi dica questi sono i miei pronostici aspetto i vostri nei commenti o su Telegram vedete voi dove volete farli fatemi i vostri i vostri pronostici vi abbraccio di cuore vi abbraccio vi abbraccio di cuore a tutti quanti vi auguro un buon proseguimento di giornata ci vediamo domani per il campionato e come dico sempre io belli siete grazie grazie grazie